Allora, anzitutto, al primo tempo veramente abbiamo giocato benissimo, potevamo già chiudere, non siamo riusciti, peccato, perché abbiamo lavorato tantissimo per questa partita, ma è poi chiaro che se non segni rischi sempre per prendere e Milan ha fatto benissimo, non ha mollato e ha meritato questo punto. Chiaro, rischiavamo alla fine anche perdere, perché Milan ha giocato benissimo il secondo tempo e noi non abbiamo sfruttato la nostra occasione, e questo secondo me dobbiamo ancora migliorare per crescere, ma in questo gruppo credo ancora, perché siamo tutti ragazzi splendidi che possiamo ancora fare bene. Parlare è facile adesso, ma io dico, è chiaro che 2-0 non è chiuso ancora, devi sempre chiudere questa partita, potevamo anche con 2-0 fare meglio, Poi, come detto prima, è venuto il 2-1 che secondo me ha tolto tantissima forza, anche mentale, che non abbiamo gestito bene, poi secondo tempo abbiamo ancora creato qualche occasione per chiudere, non abbiamo riuscito, poi Milan è stato bene, forte, ha fatto il 2-2 e ha meritato. Chiaro, si può ancora migliorare anche in queste cose, si deve gestire meglio il 2-0 per chiudere questa partita, ma poi noi siamo una squadra che piace attaccare e che anche dobbiamo imparare questo per chiudere queste partite. Un'altra partita molto importante che dobbiamo fare bene, perché in questo gruppo crediamo ancora.